ciao amici buongiorno siamo in diretta su iris tv siamo a palataurus di lecco così come vi avevamo promesso 23 di febbraio durante la settimana della moda a breve iniziano anche le sfilate però noi prima facciamo zumba siamo con anna e martin michel il nostro invitato speciale oggi ciao martin ciao ragazzi ciao a tutti ho capito che non è il tuo nome d'arte proprio il tuo nome giusto martin michel il mio nome è Urena Garcia e sono il mio cognome perfetto come mai zumba come mai all'eco cosa volete farci presente oggi ragazzi come mai zumba sicuramente perché fa bene all'anima ballando la gente si sente meglio e sicuramente si ritrova in polma e poi come mai all'eco questo è responsabilità di altri allora io martin l'ho conosciuto tanti anni fa mi ha sempre impressionato il suo modo di ballare unico latino quindi era un grande desiderio portarlo a letto e finalmente ce l'abbiamo fatta siccome la nostra parte dei laghi cioè letto è diventato molto famoso direi che abbiamo vinto siccome oh yeah e quindi martin michel è con noi siamo qua siamo vedo l'ora di iniziare sono molto contento ha fatto il suo team ha fatto veramente un bel lavoro siamo andati oltre l'aspettativa con il numero di persone in effetti si vede anche dietro già la gente si sta preparando tantissimi arriveranno ancora dalle tre cominciano quindi tutti qui presenti qui all'eco con noi ci dai una definizione del zumba cosa vuol dire zumba? zumba praticamente è solamente un marchio come nome no però hanno messo quello che era la vecchia aerobica insieme a quello che sono i valli latini e le hanno mescolate insieme quindi dentro delle coreografie del zumba inizialmente trovavi anche trovi anche adesso dei movimenti fitness che aiutano a scolpire il muscolo e anche a livello caldo vascolare anche migliorare quindi direi che è giusto per me siccome ho iniziato sto restyling vorrei di non essere più la curvy magari vengo con voi ragazzi a fare i corsi di zumba qui all'eco al paletaurus si è esporti la palestra qui da parte assolutamente un messaggio particolare per i nostri seguici un messaggio particolare vi auguro tanto 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 amore tanta pace e tanta salute a tutti grazie martin grazie anna e buon evento ciao a tutti ciao